OLA RAGAZZUOLI OLA RAGAZZUOLI Andiamo direttamente alle scarpe e andiamo sulle scarpe, quindi freccia destra, scarpe Arena War. Andiamo a selezionare il 40 su 48, quindi scarpe nere, luci blu. Perfetto. A questo punto ragazzuoli andiamo sulle parti superiori. Parti superiori dobbiamo andare a prendere questa bellissima felpa, freccia destra. Andiamo su 37 su 54. Dopodiché felpe designer. Andiamo a indossare la felpa 12 su 69. Col cappuccio ciano, mi raccomando, leggete sempre il nome e non il numero. A questo punto una volta cerchio, dopodiché andiamo su giubbotto da lavoro e andiamo a indossare anche questo fantastico giubbotto da lavoro. Quindi questo qua, blu, 13 su 75. Ci spostiamo invece adesso nel reparto accessori perché dobbiamo abbinare anche dei bellissimi guanti. Andiamo quindi su accessori, freccia destra, andiamo su guanti e andiamo a mettere i corazzati neri. 9 su 72. L'ultima cosa ragazzuoli, andiamo a prendere il casco antiproiettile nero. Se non l'avete ancora acquistato, si acquista da questa parte, quindi copricapo, freccia destra, andiamo su antiproiettile, casco antiproiettile e andiamo a prendere l'antiproiettile nero. Perfetto. A questo punto ragazzuoli l'outfit per com'è? Ovviamente senza maschera, l'andiamo a salvare dalla cassiera. Io l'avevo già salvato, una volta salvato andiamo al negozio di maschere. Ok ragazzuoli, un'altra volta arrivati al negozio di maschere, andiamo quindi alla sezione delle maschere, premiamo freccia destra. A questo punto ragazzuoli dobbiamo andare nella sezione delle maschere antigas e selezionare questa maschera, quindi dobbiamo indossarla. Dopodiché ragazzuoli, cerchio, cerchio, cerchio. A questo punto ci rechiamo nel cannocchiale più vicino. Ok ragazzuoli, una volta arrivati al cannocchiale, ovviamente io ho indossato la maschera per farvi vedere tutto il procedimento. Andiamo verso il cannocchiale, premiamo freccia destra, touchpad premuto, mi raccomando. Poi andiamo su stile, andiamo su accessori, andiamo su caschi e andiamo a mettere ovviamente il nostro casco antiproiettile nero. Facciamo cerchio, 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 ci allontaniamo dal cannocchiale e ovviamente avremo la maschera glicciata. Ora questo qua ce lo andiamo a salvare, non al negozio di maschere, ma andiamo direttamente invece al negozio che c'è vicino allo strip club. Ok, quindi si trova precisamente in questa posizione. Io ragazzuoli lo perdo ogni volta in questa posizione. Perfetto, quindi questo negozio qua e andiamo a salvarla direttamente lì. Ok ragazzuoli, una volta arrivati al negozio entreremo dentro, quindi salveremo il nostro outfit in uno slot qualsiasi. Quindi freccia destra, quadrato, andiamo a salvare, io lo vado semplicemente a sovrascrivere. Dopodiché una volta cerchio andiamo su completi pilota, mi raccomando, importantissimo, completi pilota. Andiamo su completi pilota, andiamo a selezionare i completi da pilota, andiamo a prendere un completo qualsiasi, va benissimo. Dopodiché cerchio, 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 ci dirigiamo verso lo strip club, ok? Che è proprio dall'altra parte della strada. Ok ragazzuoli, una volta arrivati allo strip club entreremo dentro, dopodiché touchpad, andiamo su stile, andiamo a selezionare l'outfit che abbiamo appena creato, dopodiché cerchio, cerchio, cerchio e usciremo fuori dallo strip club. E ovviamente questo servirà per glitcharci il tubo da pilota. Ora questo outfit ce lo andiamo a salvare di nuovo al negozio. Ok ragazzuoli, una volta arrivati dentro al negozio, freccia destra, andiamo semplicemente a sovrascrivere l'outfit. E ragazzuoli, ovviamente abbiamo completato il nostro outfit. Fantastico, dedicato ovviamente alla bevanda energetica della junk. Ragazzuoli, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao!